Ciao a tutti ragazzi, qui come sempre il vostro ara e benvenuti in questo nuovo video e finalmente arriva la recensione del Son Goku e Son Gohan Kid e Kinton Exclusive Edition, la event exclusive che si poteva trovare al Look Comics 2024, si poteva trovare anche al San Diego Comic-Con ovviamente. Eccola qui nella confezione ragazzi, è abbastanza grande, è una specie di cubo con la solita colorazione nera e poi i personaggi con questo colore arancione, ma direi di non perdere altro tempo e andiamo subito a vederla fuori dalla confezione. Ed eccolo qui il nostro Goku con il piccolo Gohan e tutti i suoi accessori, come vedete sono un bel po', andiamo a vederli subito, partiamo con le manine intercambiabili e partiamo dalle mani interessanti, le solite, questa posa l'abbiamo vista mille volte, praticamente sono inclusi tutti i Goku. Poi abbiamo invece queste che sono uniche, questa qui aperta vedete per reggere Gohan un po' più tozza del normale, questa qui invece con questa posa particolare mai vista per impugnare il bastone insomma, poi questa ancora per impugnare il bastone e questa qui invece dritta in questo modo qui. Abbiamo naturalmente il bastone che è semplicemente un riciclo di quello che avevano fatto come omaggio qualche tempo fa, poi abbiamo anche chiaramente vestitino intercambiabile per Gohan con questa posa vedete seduta appunto per cambiarlo con quello lì invece dritto, figata questa cosa qui tutto in plastica morbida. Abbiamo visi intercambiabili, questo qui che sorride e guarda verso un lato, bellissimo ragazzi la somiglianza con Goku qui è veramente incredibile, con il Goku poi della saga di Radish in particolare ci hanno tenuto molto a dare questa somiglianza e ci sono riusciti, eccolo qui. Bellissimo anche questo, sorridente guarda di fronte e poi questo qui ragazzi iconico, il Goku arrabbiato con questi occhi vedete i segnetti attorno agli occhi, fatto veramente veramente benissimo. Abbiamo anche capelli intercambiabili vedete svolazzanti verso un lato appunto per inserirli quando è sulla nuvola speedi oppure quando vola oppure in pose dinamiche di combattimento chiaramente si possono aprire in questo modo qui e poi si inseriscono tutti i visi. Poi ragazzi abbiamo il piccolo Gohan, eccolo qui, questa è una figura articolata, praticamente testa articolata, abbiamo anche il ciuffetto addirittura articolato, non ha visi intercambiabili, ha le braccia però articolate in questo modo qui, molto fighe. E poi ragazzi le gambe si muovono a mo' di Lego, praticamente hanno un'articolazione unica vedete, un piegamento unico e si muovono così. La cosa in realtà ci sta, essendo una figura molto piccola devo dire che va bene così. Piedini anche si possono muovere su sfera e la coda è articolata su sfera. C'è la possibilità appunto di intercambiare questa tunica che in realtà alla fine non è che dava più di tanto fastidio però va bene che abbiano incluso addirittura una tunica intercambiabile per farlo sedere. Molto carina come figure, veramente piccolina. E poi ragazzi abbiamo la nuvola, eccola qui, la nuvola Kinton, questo plasticone vuoto, mi aspettavo fosse pieno sinceramente, è fatta comunque bene con delle sfumature ragazzi. Eccola qui, e qui abbiamo i fori per posarla su una eventuale base che purtroppo ragazzi Bandai non ha incluso, nonostante i prezzi atomici di questa esclusiva, non è inclusa neanche una basetta per reggere la nuvola ragazzi, veramente incredibile questa cosa. Però hanno incluso due cote, questa qui vedete che curva e questa qui invece bella dritta, niente basetta per esporre la nuvola. Grande Bandai come al solito, vorrei che commentasse tutti con un bel brava Bandai perché se lo merita, se lo merita veramente. Comunque, a parte gli scherzi, andiamo a vedere Goku, eccolo qui più nel dettaglio, zoomino sul volto, sorridente, vedete questo sguardo, diciamo sorridente, si disfida però molto ben fatto. I capelli anche sono diversi, adesso faremo il confronto con il Goku Siren Rise Don't Earth. Il corpo invece dovrebbe essere un riciclino, però abbiamo loghi diversi, vedete questo è il logo appunto della tartaruga. E niente di nuovo, in realtà sfumaturine un po' più accentate qui alla fine dei pantaloni. Gli stivali comunque ben fatti, vediamo per completezza le articolazioni ragazzi, ma sono sempre quelle, sempre il solito Goku non ha assolutamente nulla di nuovo rispetto al Siren Rise Don't Earth. Infatti non mi ci sto a soffermare più di tanto sulle articolazioni ragazzi, sono quelle, cintura anche articolata e questo è, eccolo qua. E arriva il confrontino con il Goku Siren Rise Don't Earth, come vedete la colorazione è leggermente diversa, adesso qui tende un po' più al rossiccio, un arancione un po' più scuro. Cintura più chiara, ma quello che cambia ragazzi è evidentemente la testa intera, anche i visi. Questo è un Goku con l'Ossia di Toriyama un po' più moderno, questo è un Goku invece con l'Ossia di Toriyama un po' più vecchiotto, si vede chiaramente. Anche i capelli cambiano, cambiano completamente, questi sono capelli un po' più sottili, vedete le punte, questi un po' più larghi, come siamo abituati diciamo nell'era moderna. Cambiano chiaramente anche i loghi, sia qua davanti, sia sulla schiena. Per il resto ragazzi è semplicemente un mero riciclo del corpo e il riciclo anche di questo bastone che era appunto dato in omaggio tempo fa. Ed eccoci alla misurazione dell'altezza, scala perfetta ragazzi, è esattamente la stessa altezza del Goku Siren Rise Don't Earth, condividendo anche lo stesso corpo. Ovviamente siamo sui 14,5 cm, quasi 15, quindi 5 pollici e 75 per la precisione. Invece il Gohan è molto piccolo, siamo sui 6 cm scarsi, 2 pollici e mezzo, quello a confronto con la Marvel Legends, Mafex, un'altra Sage Figures e il Monezza Spider nel Marvel Select. Ed eccoli qua sulla basetta rotante, tutti felici che svolazzano prima della tragedia di Radish che si abbatte sulla Terra ragazzi. Dai, devo dire, è un bellissimo set, certo Bandai poteva includere una basetta maledetta per questa nuvola, è veramente vergognoso, come è vergognoso secondo me il prezzo, veramente troppo troppo alto per quello che abbiamo. Bella la nuvola, però è un plasticoide vuoto e poi il resto semplicemente Goku riciclato. È un mini Gohan fatto bene, è una bella esclusiva sicuramente per l'aspetto di Goku in particolare, perché è un aspetto ben fatto, l'aspetto poi, la testa di Goku che cambia solo quella, che ricalca appunto lo stile della saga di Radish. Devo dire, sono soddisfatto di averla, avrei voluto pagarla un po' meno, avrei voluto una basetta dentro. Fatemi sapere cosa ne pensate voi con un commento qui sotto ragazzi, il like che abbiamo saputo benissimo, così come anche la condivisione. Spero che questo video vi sia piaciuto, detto questo, ciao da Ara, da Goku e Gohan e collezionate sempre.